È indubbiamente un precedente che fa clamore la vittoria di un utente contro nuove acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Arezzo e parte in quella di Siena. A darne notizia il Comitato Acqua Pubblica, la causa aveva preso il via dal ricorso di un cittadino che pur non essendo servito da alcun impianto di depurazione, si era sempre visto addebitare la quota di tariffa, che non sarebbe stata dovuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2008. La quota era stata soltanto parzialmente rimborsata al cittadino per il periodo successivo al 15 ottobre 2003, mentre veniva negato il rimborso per il periodo precedente, circa tre anni, per 400 euro. Già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto all'utente il diritto al rimborso, ma nuove acque aveva presentato appello di fronte alla sezione civile del Tribunale di Arezzo. È stato il giudice Antonio Picardi a rigettare il ricorso e condannare nuove acque anche alle spese legali, oltre che ovviamente al rimborso nei confronti del cittadino. La sentenza, scrive in un comunicato stampa il presidente del Comitato Acqua Pubblica, Gianfranco Morini, assume una particolare importanza per tutti gli utenti di nuove acque non serviti all'epoca da impianti di depurazione. E da nuove acque arriva un commento che leggiamo testualmente, in merito a quanto diffuso a mezzo stampa dal Comitato Acqua Pubblica relativamente al pronunciamento del Tribunale Ordinario di Arezzo, che ha riconosciuto il diritto al rimborso della depurazione in favore di un utente, nuove acque desidera precisare che la società ha rimborsato gli utenti non allacciati alla depurazione secondo tempi e modalità stabilite dalle autorità competente, AIT ed AERA, valide altresì per tutti i gestori del servizio idrico in Toscana e su tutto il territorio nazionale. Nuove acque gestisce il servizio idrico nel rispetto rigoroso di quanto viene stabilito dal regolatore per ogni aspetto del servizio stesso. Prendiamo atto della decisione del giudice precisando che la sentenza in questione sarà applicata solo al caso specifico, così come avviene per tutti i pronunciamenti della giustizia civile e non alla totalità delle utenze.